Cesar Falletti, una prestazione straordinaria, ti procuri il rigore che consente ad Avenatti di sbloccare il risultato, servi l'assist a Palombi per il raddoppio e coroni questa grande prestazione con lo splendido gol che chiude la partita sul 4-1. Di gran lunga e per distacco il migliore in campo. Sì, migliore in campo, nel senso che ho fatto quello che dovevo fare, non è che ho fatto niente straordinario, non ci stavano dando le partite che volevo fare, credo che hanno stato bravi Felipe e Palombi di chiudere questa azione che io ho fatto, perché se no sarebbe tutto per niente. Faccio complimenti a tutti e due perché Felipe si è sbloccato e spero che adesso comincia a fare gol. Speriamo tutti, Palombi non ho niente da dire ma lui ce la mette tutti. Una volta che entra in campo entra con la voglia di aiutare la squadra e come ho detto ancora è lunga, ce la possiamo fare ma è dura. Probabilmente il gol di oggi è il più bello di questo campionato, forse unitamente a quello che hai realizzato nel derby di andata al Renato Curi. A chi lo dedichi? Questo gol se lo dedico a mia moglie e a mio figlio che fa tre settimane che non mi vedono, a mia mamma che è venuto da Uruguay fa tre settimane che non mi vede. E dopo la famiglia Ciucci che stanno sempre vicino a me e a tutti quelli che mi vogliono vedere. Finalmente però adesso starai con i tuoi visto che il ritiro è finito. Sì, sì, meno male perché siamo un po' male con la testa pensando che se perdiamo questa partita andiamo un'altra volta in ritiro. Oggi mi sono guardato un po' di video di mio figlio e ho detto basta di cazzate, oggi dobbiamo fare punti perché io non voglio andare un'altra volta in ritiro. È stata una bella vittoria e c'è da morare. Quanto sono stati importanti questi tre punti ai fini della rincorsa a Salvezza? Purtroppo alcune squadre come il Trapani ieri ha vinto, il Pisa ha pareggiato, però altre invece rimangono comunque in orbita ternana, quindi in orbita Salvezza. Sì, per questo ti dico che ancora è lunga e ci sa che alcuni dei tifosi non ci credono, ma noi ci crediamo, noi facciamo questo mestiere, ma fino alla fine ci dobbiamo mettere la tutta e ci proviamo. In trasferta siamo stati un po' meno bravi, stiamo facendo fatica, ma pensiamo in queste due partite che sono fondamentali per riuscire a quell'obiettivo che ci siamo messi di salire in questa situazione. Dicevi che in trasferta avete qualche problema in più rispetto alle partite casalinghe, infatti la Terrana viene da due vittorie, le ultime due in casa, la Terrana ha vinto per tutte e due le volte, qual è il problema invece in trasferta? Il problema è che le altre squadre giovano, non è che giochiamo solo noi, ma dobbiamo essere più cattivi, avere più personalità, andare a affrontare queste due partite con personalità, senza paura e la voglia di vincere e di salire in questa situazione. Comissario Liberano invece cosa è cambiato? No, è cambiato la forma di giocare, la formazione che fa con il trequartista, ma che entriamo in campo siamo noi, non è che cambia tanto. Se noi entriamo in campo e non facciamo quello che dice il miss è tutto per niente. Ti trovi meglio giocare trequartista? Sì, mi piace giocare trequartista, anche mi piaceva giocare esterno come metteva Caudieri, stavo imparando tanto, è normale che faccio un po' di fatica, ma stavo imparando. Ma dobbiamo continuare così, è dura, ma ce la possiamo fare. Adesso arrivano due trasferte difficili, Novara sul sintetico e poi a seguire dopo 72 ore nel turno infrasettimanale della prossima settimana Benevento. Partite complicate contro squadre di alta classifica, ma credo che la Trenana voglia almeno provare a sfatare questo zero nella casella delle vittorie esterne. Sì, abbiamo due squadre che giocano a calcio, che stanno bene in classifica, ma noi dobbiamo metterla a tutta per vincere questa partita, perché sono fondamentali questi punti che possiamo fare, possiamo respirare un'aria più pulita. Ma noi oggi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti. Congratulazioni al migliore in campo. Grazie.